Salve, oggi proponiamo l'indizio invisibile, radio giallo di Hillary Quinn, trasmesso alla radio americana nel 1942. Provate a raccogliere la sfida che Hillary Quinn lancerà al termine della lettura. Bene signori, gli indizi sono tutti sul tappeto, in base a quello che avete ascoltato dovete essere in grado di indovinare l'assassino. Comunque, se non ci riuscite, potete tranquillamente ascoltare la soluzione al termine della registrazione. Dallo studio C della sede RAE di Firenze, la compagnia delle seggiole presenta di Hillary Quinn l'indizio invisibile. Personaggi, Hillary Quinn, scrittore di gialli ed investigatore, ispettore Richard Quinn, padre di Hillary, sergente Belli della squadra dell'ispettore Quinn, Nicky Porter, segretaria di Hillary, dottoressa Pruti, medico legale, Bartolomew Brown, l'uomo minacciato di morte. Ah, finalmente a casa. Grazie per il passaggio, Gredi. Ehi, Belli. Sì, ispettore. Non appena siete a casa, telefonate a Eggstrom per quel rapporto sul tassista filippino. Informatevi pure se quelli della scientifica sono riusciti a scoprire con quale pallottola sia stata uccisa quella zittella. Sì, ispettore. E non dimenticatevi di chiedere ai colleghi di Brooklyn se sanno qualcosa su quei furti ai depositi di pellice. Poi domani mattina... Niente in contrario, ispettore, se rubo cinque minuti per baciare mia moglie. Purché non dimentichiate che stiamo giocando a guardie e ladri. Che giornata. Su, entrati in casa che ho altri ordini da darvi. E questo che cos'è? Che cosa cos'è? La lettera sotto la porta. Un espresso per Ellery. Chissà se Ellery e Nicky sono in casa. Ma sì che ci sono, non preoccupatevi. Vostro figlio la sfrutta quella povera ragazza di Nicky Porter. La costringe a lavorare a quei suoi benedetti gialli fino a ore impossibili. Non mi pare che la signorina Porter se ne preoccupi. Ellery, Nicky, sono io. Ciao papà. Buonasera ispettore. Entrate Veli, entrate. Entro ma senza tanta voglia. Buonasera, sergente. Ma che ore sono? Povero me, le undici. Nicky, mi dispiace. Non interrompermi. Sto scrivendo proprio la scena in cui Jennifer trova il cadavere del suo innamorato sull'albero. Sedetevi Veli. Ellery, c'è la lettera per te. L'ho trovata fuori della porta. Non hai sentito suonare il campanello? A quanto pare no. Grazie papà. Allora Veli, la prima cosa... Questa da dove arriva. Lascia perdere, Nicky, è tardi. Il cadavere sull'albero può aspettare. Carta intestata dell'Arlequin Hotel. Città, signor Ellery, eccetera, eccetera. D'accordo. Sono stanca. Che cosa c'è da fischiare, Ellery? È semplicemente sbalorditivo. Nicky, papà, sergente, sentite cosa c'è scritto. Beh, vediamo se indovino. Caro signor Queen, avete degli occhi bellissimi. Posso avere un vostro autrografo? Un firmato, un'ammiratrice devota. Il poeta di Santa Street. Cosa dice Ellery? Caro signor Queen, vi mando questo messaggio per espresso perché lo riceviate stasera stessa. Quando domani mattina verrete a trovarmi in albergo voglio essere sicuro di essere profondamente addormentato. Cosa? Beh, è una trappola. Non la capisco. Tutto lì, Ellery. No, signore. Ascoltate questo. Abito all'Arrechino Hotel, appartamento 777. Accludo la chiave della porta. Come annunciato la chiave nella busta. Poi dice, vi prego, vi prego venite domani mattina alle 7 nel mio appartamento, aprite la porta, entrate in camera e svegliatemi. Dormirò sodo a causa di sonniferi. Mi raccomando, questo è molto importante. Ma è scritto proprio così. Dormirò sodo a causa di sonniferi. Mi raccomando, questo è molto importante. Certo. Dopo avermi svegliato, voglio che anche voi vediate con i vostri occhi quello che ho visto io. Altrimenti non mi crederete. Signor Queen, non rifiutate l'invito, vi imploro. È una questione di vita o di morte firmato con la stessa calligrafia tremolante Bartolomeo Brown. E chi ci capisce niente? Ma è di mia competenza, no? Questione di vita o di morte. Una lettera davvero strana, Ellery. Mi fa venire la pelle d'oca. Sì, Nicky, davvero strana. Ma Ellery, spero che tu non stia parlando seriamente. Quell'uomo è matto o vuol farti uno scherzo da prete? Non credo, papà. La lettera di Brown è per me un'invocazione d'aiuto da parte di un uomo completamente disperato. Così spaventato da non connettere. Nicky, vuoi venire domattina alle sette meno un quarto all'Arlequin? Ti aspetto nella hall dell'albergo. Potrei aver bisogno che tu prenda appunti. Cerca di tenermi fuori da questo pasticcio. Vi dispiace se vengo anch'io, signor Queen? Questa storia mi incuriosisce. Beh, forse verrò anch'io a dare un'occhiata a Ellery. Chissà chi non dica la verità. Provarlo addormentato, svegliarlo. Secondo me quello ha bisogno di una sveglia, non di un investigatore. Anch'io ho la stessa ridicola sensazione. Spero solo... Speri solo che cosa, Nicky? Che il signor Brown si svegli. stanza 777. Eccoci arrivati in manicomio. Sveglia! Sono in lattaio! Sto proprio rimbambendo. Beh, figliolo. Allora? Su, avanti, Ellery. Apri la porta. D'accordo, d'accordo. Entrate. Svelti! Vi avverto che non sono nervoso, eh? Sentite qualcosa. Ellery, dove vai? La lettera diceva camera dal letto. È questo il nido del cuculo, signor Queen? È una camera dal letto, sergente. C'è un uomo nel letto. Che cosa vi aspettavate di trovare? Un canguro? Ellery, quel lumento calvo è orribile. Immobile. Signor Brown? Signor Brown? Forse è... Brown? Signor Brown? Brown? Non voglio vedere! Calmati! Sta respirando. È sotto l'effetto dei sonniferi presi ieri sera. Brown? Signor Brown? Svegliatevi! Non uccidetevi! Non uccidetevi! Per amor di Dio, smettete di urlare! Nessuno vuole uccidere! Uccidetevi, professore! Calmatevi, signor Brown. Sono la persona a cui avete spedito la lettera. Vi ricordate? Siete il signor Queen? Credevo di essere un uomo finito, signor Queen. Come sono felice di vedervi. Chi sono quei due signori? E chi è quella donna? Non sono una donna, signor Brown. Sono la segretaria del signor Queen, Nicky Porter. E io sono l'ispettore Queen delle centrali di polizia. E questo è il sergente Veli che fa parte della mia squadra. Ora, volete dirmi cosa è tutta questa pagliacciata, signor Brown? Poliziotti! Grazie, grazie, signor Queen. Grazie per averli portati qui. Avete visto qualcosa? Che cosa avremmo dovuto vedere, signor Brown? Se dice serpenti mi metta a urlare. È spaventato, è chiaro. Di che cosa avete paura, signor Brown? Su, ditecelo. Ora vi faccio vedere. Mi comporterò come se non foste qui. Come se fossi solo. Resterete solo presto se continuate così. Vi prego, signori, seguitemi. Tenete gli occhi bene aperti. Non vi fido più dei miei. Veli, chiamate l'ambulanza. Poveretto. Vado a telefonare di sotto, eh? No, aspettate. Continuate pure, signor Brown. Vi seguiamo. Sì, ma non troppo. Tiro le tende. Lo faccio tutte le mattine per far entrare il sole, capite? Che cosa vi aspettate di far entrare il mattino, la luna? Ellery, per l'amor di Dio. No, aspetta, papà. Vediamo chi va verso quella porta. Dove dà quella porta, signor Brown? Nel bagno. Ora apro la porta. Eccolo là! Sullo specchio sopra il lavandino! La vedete? La vedete sullo specchio? Non sbaglia mai. Ci sono alcune parole sullo specchio. Ma come se fossero state scritte da un fantasma. Andiamo, Veli. Sono scritte con il sapone. Un avvertimento al sapone, Ellery. Non c'è da meravigliarsi se questo povero uomo... Vi ucciderò. Un messaggio firmato con una penna avvelenata. Pardon, insaponata. Una settimana! Sempre lo stesso messaggio. Ogni mattina lo cancello dallo specchio. E il giorno dopo ce lo ritrovo. E non è tutto. Volete vedere che cosa faccio dopo? Mi avvicino alla scatola di sigarette che c'è sul tavolo di soggiorno. Guardate! C'è una scatola, è vero. A questo punto cosa succede, signor Brown? Apro la scatola per prendere una sigaretta, così... Vedete? Lo vedete? Il biglietto nella scatola! Non c'è bisogno che lo legga! So già che cosa dice! C'è scritta sempre la stessa cosa! Che cosa dice il biglietto, Ellery? Vi ucciderò. Lo stesso messaggio. Io non... Brutto colpo, vero? Io mi chiedo se... Trovo messaggi in tutto l'appartamento. Una volta attaccate alla parete, una volta scrivacchiate sul giornale del mattino, sul notes della scrivania, ovunque guardi lo stesso avvertimento, vi ucciderò, vi ucciderò, vi ucciderò! Mi pare di impazzire. Devo intossicarmi di pillole per riuscire ad addormentarmi. Che cos'è? Veli, andate a vedere chi è. Beh, io lo so chi è. È Boris Karloff. Dovete farvi forza, signor Brown. Altrimenti rischiate di crollare. Su, fatevi forza. Il signor Queen vi aiuterà. Sedetevi qui, signor Brown. Vi darò un'aspirina. Non toccatemi! Chi era? Chi ha suonato? Non avete nulla da temere, signor Brown. Veli, su, sbrigatevi! È un espresso, ispettore! Simile a quello ricevuto da Ellery. E non c'è motivo di preoccuparvi, signor Brown. Che male può esserci in una lettera recapitata con urgenza? Va! Sciocchezze! Datemi quella lettera, idiota! Ehi, è un tipo pericoloso! Ancora lui! Ancora lui! Ancora lui! Ancora lui! Ha una crisi di nervi! Sergente, aiutatemi, per favore! State attenta, signorina Porter. Non si sa mai come vanno a finire queste cose. Buono! Buono, signor Brown! Che cosa c'è in quella lettera, Ellery? Una lettera anonima, eh? Scritta in stampatello, con la matita, nessuna firma, carta ordinaria, imbucata ieri alla posta centrale. C'è scritto, molto presto sarete ucciso da qualcuno con cui parlate ogni giorno. Tutto bene, signor Brown? Vi sentite meglio? Su, bevete un altro sorso. Su, su, su. Grazie. Sì, no, siete tutti molto gentili, ma purtroppo non serve a niente. Sono spacciato, come se fossi già morto. È la fine. È così che parla un uomo. Su, fatevi coraggio, signor Brown. Non avete nessuna idea di chi voglia uccidervi. Avete dei nemici? Nemici? Sì e no. Voglio dire, è possibile. Qualsiasi cosa è possibile. È meglio chiamare un medico. Questo tizio ha bisogno di una camicia di forza. Nervi saldi, Veli. Forse possiamo fare qualcosa. Dite che potreste avere dei nemici, signor Brown. Di chi si tratta? È una lunga storia. Vedete, sono un inventore. Ah, ecco. Per anni ho lavorato con un socio a un'invenzione. Visto però che non riuscivamo a perfezionarla, il mio partner si è scoraggiato e ha abbandonato l'impresa. Ho cercato allora di risolvere il problema da un altro punto di vista e alla fine ce l'ho fatta. Con quell'invenzione sono diventato ricco. A questo punto si è rifatto vivo il mio ex socio, chiedendomi il 50%. Siamo finiti in tribunale, la causa l'ho vinta io. L'invenzione era mia, senza ombra di dubbio. Capisco. Come si chiamava il vostro ex socio, signor Brown? Smith. Smith. Avete voglia di scherzare? No, no, si chiamava proprio così. Qualcuno deve pure chiamarsi Smith. D'altra parte, io mi chiamo Brown. Il vostro nome, signor mio, è Picchiatello. Dove possiamo trovare il vostro ex socio? Smith. Oh, è morto. È morto da anni. Andiamocene via. Aspettate un momento, Veli. Signor Brown, questo Smith ha lasciato qualche parente che potrebbe nutrire rancori verso di voi. Aveva un figlio e una figlia. Ellery, ci siamo. Un momento, Nicky. Che aspetto hanno questo figlio e questa figlia, signor Brown? Come faccio a saperlo? Non li ho mai visti. Allora dove vivono? Non ne ho idea. Volete dire che qualsiasi ragazzo di New York potrebbe essere il figlio di Smith e qualsiasi ragazza sua figlia? E che vedendoli non li riconoscereste? È così, signorina. Oh, ma è l'aria spaventoso. Sì, Nicky. Davvero un brutto affare. Affrontiamo il problema in modo logico. È chiaro che chiunque entra di nascosto nell'appartamento per minacciare il signor Brown ci entra di notte. Probabilmente ha un duplicato della chiave della porta d'ingresso. Non è difficile farlo. Perché allora non l'ha ancora ucciso? Perché prima vuole torturarlo, sergente. Ellery, secondo me c'è qualcuno che ha intenzione di vendicarsi. Pare proprio di sì. Signor Brown. Eh? Il vostro nemico dice nella lettera che sarete ucciso da qualcuno con cui parlate ogni giorno. Le parole ogni giorno sono sottolineate. Quindi cominciamo da qui. Concentratevi, signor Brown. Chi vedete ogni giorno della settimana? Il ragazzo dell'ascensore che però non è mai lo stesso. Inoltre non ti rivolgo mai la parola. All'impiegato della reception, allora? No. Non lo vedo tutti i giorni. Il portiere? Neppure lui incontro tutti i giorni. Vediamo un po'. Che ne dite di qualche vostro parente? I parenti creano sempre problemi. Sono solo al mondo. Immagino che nel vostro lavoro vi capite di parlare ogni giorno con molte persone. Non è così, signor Brown? Non ho un lavoro. Ho venduto l'invenzione e vivo di rendita. Signor Brown, mangiate ogni giorno allo stesso ristorante? Avrete amici, immagino. Dovete pure averne. Non ho amici. Vivo rinchiuso in questo appartamento con i miei libri e la mia musica. Frequento qualcuno, ma non tutti i giorni. Ho capito. Il cinema, la maschera o qualcun altro. Cinema, teatro? Non ci vado mai. Il vostro avvocato, allora? Il vostro dottore? Non vedo il mio medico da sei mesi e il mio avvocato da un anno. Un negoziante qua? Torno. L'idrogliere? No. Farmacista? No. Cartolaio? No. L'impiegato di banca? No. Il tassista? No. Il fiorista? No. La cosa si sta facendo interessante. Un commesso viaggiatore, forse? Oppure una di quelle persone che ti rompono l'anima con assicurazioni, libri, oggetti per la casa? Certe persone non le fanno entrare in albergo. E il ragazzo del telegrafo? E il massaggiatore? No. L'arredatore? No. Siete iscritto a qualche club, signor Brown? No. Ho capito. Frequentate ogni giorno lo stesso bar e lo stesso barista. Signore, sono a Stemio. Aspettate. Ci sono. Ogni giorno dettate lettere commerciali e personali ad uno stenografo. Non scrivo tanto. Comunque le lettere me le scrivo da soli. Il dentista? No. Il sarto? No. L'uomo che pulisce i vetri? No. L'agente di cambio? Il libraio? No. L'inserviente d'albergo? No. La cameriera? La vecchia Maggie? La vedo raramente. Pulisce mentre sono fuori. In realtà, signori... Riflettete, signor Brown. Ci deve pur essere una qualche persona che vedete tutti i giorni. Apparentemente sì. Vedete, non è servita niente. Signori, volete scusarmi? Sono molto stanco. Lui è molto stanco. Ispettore, siamo sicuri? Hillary, vorrei parlarti. Un momento, papà. Signor Brown, che ne direste di vestirvi? Riposarvi per qualche minuto? Poi scendete nella hall dove noi vi aspettiamo per fare un ulteriore tentativo. Che cosa ne dite? Apprezzo i vostri sforzi, signor Quinn, ma lo spettacolo è finito. E in fondo, presto o tardi dobbiamo andarcene tutti. Naturalmente se vi fa piacere, signor Quinn... Mi farebbe molto piacere, signore. Papà, andiamo di sotto. Credo di sapere dove cercare. Ellery, sei sicuro di aver chiuso bene? Sì, Nicky. E sta sicura che non farà più entrare nessuno. Che cosa volevi dire, figliolo, con so dove cercare? Quel tizio vuol farci credere all'uomo invisibile. Alla donna invisibile. Davvero strano. Potrebbe essere esattamente una cosa del genere. Stammi a sentire, figliolo. Per me il nostro uomo è sicuramente un caso clinico. Un pazzo. Quei messaggi se li scrive da solo. E chiunque tranne uno scrittore di gialli l'avrebbe capito da un'ora. Che abbiate ragione oppure no riguardo a Brown. Il fatto è che non è necessario vedere qualcuno tutti i giorni per potergli parlare. Ho capito, Ellery, il telefono! Sicuro. Vado a controllare sul registro dell'albergo tutte le telefonate che Brown ha fatto questa settimana. E se c'è un numero che ha chiamato ogni giorno, questa è la risposta. Io vado subito a telefonare alla psichiatra, alla dottoressa Pruti. Voglio che dia un'occhiata a questo Brown. E se la Pruti dicesse esattamente quello che credo dirà, il signor Brown cambierà presto la sua residenza dall'Arlec in hotel al reparto psichiatrico dell'ospedale Bellevue. Sarebbe questo il piano dove vive quel pazzo furioso? Dov'è? Da che parte? Mi raccomando, dottoressa, non innervositelo troppo. Non sono in vena di affrontare un matto da legare. Calma e sangue freddo, Pruti. Hai avuto fortuna con quelle telefonate, figliolo. No, non risultano telefonate quotidiane alla stessa persona. A Nicky era venuta l'idea che avrebbe potuto essere la centralinista dell'albergo. Ma poi abbiamo scoperto che le ragazze in servizio sono dieci e cambiano ogni giorno. Non capisco come mai il signor Brown non si è sceso ad incontrarci nella hall come gli avevi detto, Ellery. Sta probabilmente montando la schiuma di sapone per i prossimi messaggi. La fantasia non gli manca. Per tutti i fulmini, fratello Brown, volete aprire e dare la possibilità alla vecchia dottoressa Pruti di dare un'occhiata al vostro cranio? Ellery, perché non risponde? No, non può essere. È semplicemente spaventato. Un momento, ho ancora la chiave che mi ha mandato. Certo che così. Ha paura. Per questo non risponde. Beh, figliolo, apri questa porta e non c'è motivo di essere così nervosi. Signor Brown? Ehi, signor Brown! Dove siete, eh? Siamo noi, signor Brown. Signor Brown! Ellery. La camera dal letto. Morto! Sul letto! Dottoressa Pruti, eh... Dick Queen! Mi avevate promesso una persona viva! Ecco invece cosa mi presentate. Un tizio pugnalato per ben quattro volte alla gola e stecchito come un baccalà. E' pronto? Come devo dirvelo, vecchio imbroglione, che non si tratta di suicidio! Ma ascoltate, dottoressa, non è colpa mia se... Non ho bisogno di scuse, Dick Queen! Vi interessa solo il risultato dell'autopsia, vero? Allora statemi bene a sentire. Le ferite sono troppo profonde perché se le sia provocate da solo. Inoltre, avete detto voi stesso di non aver trovato l'arma del delitto. E secondo voi di che arma si tratta? Come faccio a saperlo? Siete voi il detective! Siete stato voi a trovarlo! Una tranquilla serata in casa Queen. Cosa aveva la dottoressa Pruti da essere così furibonda? Eh, credo che sia tuttora arrabbiata per l'adverso destino. Sperava di visitare un paziente e si è trovata davanti a un cadavere. Eh, povero signor Brown. E pensare che tutti quanti credevamo fosse pazzo. Se solo riuscissi a rintracciare quel figlio o figlia dell'ex socio di Brown. Ma tutto quello che abbiamo è un nome. Smith! Smith al diavolo! E tu, Ellery, a che punto sei? Al punto che mi è scoppiato il mal di testa. Non mi viene più in mente nessun altro che possa essere stato in contatto quotidiano con il signor Brown. Ispettore, siate riuscito a sapere da quelli dell'albergo a chi telefonava il signor Brown? Sì, ma senza alcun risultato. Ho scoperto solo che quel povero diavolo di Brown era molto amato dal personale per le sue mance. Sì, sembra sempre fosse azzimato. Il più elegante fra tutti gli ospiti di quell'orribile mausoleo. Papà? Sì, Ellery? La memoria mi sta facendo brutti scherzi oppure è vero che quando abbiamo visto il cadavere di Brown lui non indossava la giacca? È vero. Vestito di tutto punto tranne la giacca. E che non c'era nessuna macchia di sangue sulla cravatta? Oh, su questo punto garantisco io. Non dimenticherò mai com'era quando lo abbiamo trovato morto. Non c'era sangue neppure sul colletto, vero? No, no. Nicky, passami il telefono. Si può sapere, Ellery, che cos'è tutta questa eccitazione? Aspetta, vedrai. Se non sbaglio, Veli è ancora al lavoro nell'appartamento di Brown all'Ardeck. Sì, sicuro. Pronto? Passatemi per favore l'appartamento 777. Sì. Sì? Lo so? Ma qui è la polizia! Qualcosa mi dice che il cervellone ha avuto un lampo di genio. Non so se sono un cervellone, Nicky, ma o le cose stanno come penso oppure ti devo un mazzo di orchidee. Pronto, Veli! Qui a Ellery Queen. Miglior serata a voi di quanto lo sia per me. Ah, Veli! Non ho tempo per queste sciocchezze. Statemi bene a sentire. Dopo il delitto c'è stato qualcuno nell'appartamento di Brown, oltre a noi e agli agenti di polizia in servizio. No, signore. Va bene. Ora voglio che andiate nel bagno. Ci arriva il filo fin là, Veli? Sì, eccomi nel bagno. Il filo è molto lungo. Allora, signor Queen, cosa c'è? Non vedo l'ora di saperlo. Siamo a un passo dalla soluzione, sergente. Siete ancora nel bagno? Spero che tutto questo c'entri con il delitto. Sì, sì, ci sono. E allora cosa devo fare? Aprite l'armadietto dei medicinali. Signor Queen, se vi va di scherzare dirò alla dottoressa Pruti di tenervi d'occhio. E va bene. Aspettate in linea. Secondo me, ispettore, vostro figlio ha bisogno di essere messo sotto osservazione. Forse sì, forse no. Zitta, Niki. Sto per aprire lo sportello dell'armadietto dei medicinali. E ora che cosa devo fare? Prendere il veleno? Adesso, Veli, tirate fuori tutti gli oggetti che vedete nell'armadietto. Nessuno escluso. E tu, Niki, scrivi, per favore. La penna è pronta, Altezza? Cominciamo. Spazzolino da denti. Un spazzolino da denti. Dentifricio. Dentifricio. Un tubetto di aspirine. Aspirine. Pillole, sì. Tranquillanti. Tranquillanti. Una bottiglietta d'alcol. Alcol. Deodorante. Deodorante. E questo cos'è? Un liquido per sciacquare la bocca. Collutorio. E poi una confezione pronto soccorso. Confezione pronto soccorso. Aprite la, Veli. Aspettate un momento. C'è un rotolo di benda, una bottiglietta di tintura di olio, cerotti e cotone. Confezione pronto soccorso. Nient'altro, Veli. De tre mensole di vetro. Grazie, sergente. Ebbene? Ebbene, questo è tutto. Questo è tutto cosa? So chi ha ucciso Brown. No, questa volta no, signor Queen. Puoi essere un genio, ma questo è troppo. Non puoi saperlo. Non solo posso saperlo, Nicky. Lo so e con certezza. Nicky ha ragione. È impossibile, Ellery. Non c'è una sola persona sospetta. Inoltre non hai parlato con nessuno, tranne il signor Brown. Lui è la vittima. Come fai a sapere, Ellery? Voi due scettici dubitate che Brown sia stato assassinato, vero? Sì. E se ci credeste, dovreste credere anche all'esistenza di un assassino. Ebbene, c'è un assassino. Una persona con la quale Brown parlava tutti i giorni. E vi assicuro che so esattamente chi è. Ci rinuncio. Ci rinuncio. A questo punto informo tutti gli ascoltatori che sebbene non abbiate sentito nessuna voce se non quella dell'uomo assassinato potete tuttavia arrivare alla corretta soluzione non per tentativi ma per pura deduzione dei fatti presentati. quando Veli scherzava dicendo che Brown sarebbe stato ucciso dall'uomo invisibile senza saperlo coglieva nel segno. Piantala, Ellere, ti prego. Mi fai girare la testa. Ma quale uomo invisibile? Di cosa stai parlando? C'è un certo tipo di persona che non si nota che non rimane impressa nella mente. Chesterton scrisse una volta una storia riguardo ad un uomo solo in una casa che era stato assassinato. Quattro persone di guardia all'esterno della casa giurarono che nessuno era entrato o uscito. Eppure qualcuno l'aveva fatto. Come mai queste persone non l'avevano visto? Perché era il postino. Eh, a pensarci bene, è vero. Nessuno ricorda mai com'è fatto un postino o un cameriere. Ho dedotto dunque che Brown deve aver visto e conversato con un uomo invisibile tutti i giorni. Qualcuno che andava nell'appartamento di Brown faceva il suo lavoro, se ne andava. Tutto sotto il naso di Brown. Eppure Brown non pensava mai a lui come ad un uomo ma soltanto come ad un lavoro. Capisco che cosa vuoi dire, figliolo. Ma chi? Abbiamo passato in rassegna tutte le possibilità quando abbiamo interrogato Brown. No, papà. Ne abbiamo tralasciata una. Vi sfido a scoprirla come ci sono riuscito io. Ricordatevi che ho già messo in evidenza il fatto che la cravatta e il colletto di Brown non erano macchiati di sangue. È vero. Ma come è stato ucciso Brown? Con quattro colpi di pugnale alla gola. Normalmente quindi la cravatta e il colletto di Brown avrebbero dovuto essere macchiati di sangue. Come mai non lo erano? Qualcosa deve aver protetto cravatta e colletto mentre Brown veniva pugnalato. Ci siamo, papà. Qualcosa li copriva. Nicky, tocca a te. Un tovagliolo. Un asciugamano. Qualcosa di simile. Ma che cosa? Questo ci porta ad un secondo fatto. C'è un uomo la cui vita è stata minacciata per un certo tempo. Eppure l'assassino è in grado di andarli abbastanza vicino per colpirlo alla gola senza suscitare i suoi sospetti. Si sono accese le lampadine nel buio del vostro cervello? Abbastanza vicino per colpirlo alla gola mentre il collo e il petto coperti da qualcosa. Un asciugamano. Che betesono! Ma certo! Certo! Ma, Ellery, come fai a sapere che Brown riceveva la visita di quell'uomo tutti i giorni? Brown è stato descritto come un tipo molto azimato. Ebbene, un uomo raffinato fa perlomeno una cosa tutti i giorni. Si rade. Occidenti! Brown si faceva la barba da solo? No. Veli ci ha elencato esattamente cosa c'era nell'armadietto del bagno ma non ha menzionato rasoio, a mano, elettrico, lamette, crema da barba, lozione, talco. Non ha parlato di un singolo articolo che un uomo deve possedere per sbarbarsi. Conclusione. Brown si faceva radere tutti i giorni da un barbiere. Un barbiere che entrava nel suo appartamento ogni mattina con i fari del mestiere e che se li riportava via al lavoro finito. Un barbiere! L'unica persona che poteva mettere un asciugamano intorno al collo di Brown e tagliargli la gola senza suscitare in lui il minimo sospetto. Papà, telefono a Veli di arrestare il barbiere dell'Arleck in hotel che radeva Brown tutti i giorni. Scommetto 100 dollari contro un sorriso di Nicky che il barbiere è proprio il figlio assetato di vendetta del signor Smith, l'ex socio di Brown. Grazie per la visione!